Allora, per quanto riguarda Nina e Marianna che sono dentro, un appello per la liberazione. Io penso che in uno stato civile due persone così dovrebbero essere fuori, perché è una cosa assurda che c'è gente che si frega i milioni o che combina disastri pazzeschi, che è libero tranquillamente o che non viene nemmeno processato come il Presidente del Consiglio e che invece gente che sta lì a difendere una vallata venga infilata in galera. Quindi libertà assoluta per queste due persone.